si stai ci stai Pampi? ci sta dentro dai che ridiamo figaro fa benissimo da dio cazzo eh lì ho sbagliato perché ho sbagliato il peso lì ho sbagliato il peso io qua devi allargarti un po' un po' questo questo è culo eh Pampi questo è proprio culo si ricorta ancora anche qua eh eh però ho sbagliato lì in alto ho sbagliato lì in alto basta che l'allunghi devi alzarla tanto e poi la chiudi di colpo ma quando la chiudi sei a valle c'è il sasso che ti salva hai visto prima che mi sono salvato ma va che cadi non devi cadere avete capito com'è? vai entri no sono già stanco io entri sali giri occhio a questa che dovete andare in alto eh vai sopra sempre dentro vai su giri dove è Spampi? ecco se arrivi peso di là eh perché prima l'ho fatta io di qua ma se giù il piede mi sono scendi lento perché è umido e questa qua è uguale tale e quale alta anche questa e la richiudi però questa è un po' questa si è un po' più basta che scendi lento lento dai dai oh e che cacchio sassetto che ti sbilancia tutto di là dove c'è Spampi fa un bagno e esci dai due sassetti buon divertimento Spampi dopo però facciamo il contrario perché di là non lo so com'è farlo al contrario al contrario e non so come mi trovo a girare a qual è il problema tecnico su là no su là in alto che devi girare di colpo perché se arrivi lento tutte e due uno e due se arrivi troppo lento o metti i piedi o cadi giù quindi arrivare veloce là guardo al contrario non lo so no non ho visto al contrario non lo so guardo mi faccio fare lo straccio dopo mi vuoi dire come regionale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.